Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione di matematica dedicata alle catene di rapporti. Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato i vari tipi di proporzione e abbiamo visto che ci sono anche delle proporzioni particolari. Trovate tutti i video nella playlist. In questa video lezione parleremo di catene di rapporti, cioè di uguaglianze tra più di due rapporti. Abbiamo visto che una proporzione è un'uguaglianza tra due rapporti, in questo caso ne abbiamo almeno tre. Per andare a risolvere questa catena di rapporti, quindi andare a trovare i valori delle tre o più incognite abbiamo bisogno di un'altra informazione, ad esempio della somma delle tre incognite. Allora procediamo. La somma di tre numeri è 99. I tre numeri sono proporzionali a 2, 3 e 4. Calcola i tre numeri. Dobbiamo riscrivere i dati. Allora x più y più z, quindi la somma di tre numeri sconosciuti, incogniti, è 99 e sappiamo che sono proporzionali a 2, 3 e 4. Questo vuol dire che x sta a 2 come y sta a 3 come z sta a 4. Dunque il rapporto che c'è tra x e 2 è uguale al rapporto che c'è tra y e 3 che è a sua volta uguale al rapporto che c'è tra z e 4. Con queste due informazioni dobbiamo trovare il valore dei tre numeri. Conosciamo la somma, una catena di rapporti, non ci resta che applicare la proprietà del comporre. Quelli evidenziati sono gli antecedenti, quelli in verde sono i conseguenti. Andiamo ad applicare la proprietà. Sommiamo tutti gli antecedenti, quelli in azzurro, e tutti i conseguenti. Quindi la somma di x, y e z, quindi dei tre antecedenti, dei tre rapporti, sta a 2 più 3 più 4, quindi ai conseguenti, come? E scegliamo una delle tre coppie. Iniziamo da x sta a 2, ma potete scegliere quella che preferite. Noi sappiamo che x più y più z è uguale a 99, quindi lo riscriviamo in questo modo, lo sappiamo dai dati. 2 più 3 più 4 fa 9. Come x sta a 2, lo riscriviamo. A questo punto abbiamo trovato una proporzione che sappiamo risolvere bene, perché x è un medio, per calcolarlo basta fare 99 per 2 diviso 9. Semplificare e otteniamo x uguale 22. Adesso dobbiamo calcolare il valore di y e il valore di z. Allora, per calcolare il valore di y procediamo alla stessa maniera, sostituendo solo la coppia con y sta a 3. Quindi prendo questa coppia e la riscrivo qui. Tutto il resto è uguale. Ovviamente stessa cosa al passaggio successivo, y sta a 3. Di nuovo risolviamo la proporzione y uguale 99 per 3 diviso 9, cioè y uguale 33. Rimane solo z da calcolare. Per calcolare z possiamo o procedere alla stessa maniera, quindi sostituire la coppia z sta a 4 e quindi può risolvere per la terza volta una proporzione di questo tipo, e quindi z uguale 44. Oppure invece di fare tutto questo, per trovare z basta fare z uguale 99, quindi la somma di tutti e 3, meno la somma dei due che abbiamo trovato precedentemente, 44. Quindi i passaggi da seguire sono questi. Primo passaggio. Applichiamo la proprietà quindi x più y più z sta a 2 più 3 più 4, quindi la somma degli antecedenti sta alla somma dei conseguenti come x sta a 2. Secondo passaggio. La somma la sostituiamo con il valore fornito dal testo, questa la calcoliamo. Dopodiché, terzo passaggio, risolviamo la proporzione e troviamo il valore dell'incognita. In questo caso x uguale 22. Terzo passaggio. Facciamo la stessa cosa con y sta a 3 e troviamo y uguale 3. Quarto passaggio. z uguale la differenza tra la somma di tutti e 3 e la somma dei due che abbiamo trovato precedentemente. Passiamo ad un altro esercizio. Il perimetro di un triangolo misura 159 cm e i suoi lati sono proporzionali a 15, 18 e 20. Calcola la misura la misura di ciascun lato. Quindi x più y più z uguale 159, quindi chiamiamo x, y e z le misure dei tre lati. x sta a 15, y sta a 18 e z sta a 20. Procediamo come prima, quindi stavolta, stavolta andiamo più spediti perché abbiamo visto qual è il procedimento, x più y più z sta a 15 più 18 più 20 come x sta a 15. Quindi 159 sta a 15 più 18 più 20 sta a 53 come x sta a 15. x uguale, linea di frazione, 159 per 15 diviso 53. Andiamo a semplificare, 159 diviso 53 fa 3, 3 per 15 è 45, quindi il primo lato è lungo 45 cm. Passiamo al secondo, non vado a riscrivere tutto, riparto da questa, quindi sostituisco soltanto l'ultima coppia, quindi 159 sta a 53, lo riscrivo, come y sta a 18. Quindi y uguale, linea di frazione, 159 per 18 diviso 53. Stessa semplificazione, 3 per 18, 54 cm. L'ultimo lato, z è tutto il perimetro meno la somma degli altri due. Quindi vado a fare 159 meno la somma di 45 e 54, ottengo 60 cm. Posso ovviamente andare a controllare che siano corretti, quindi vado a fare 45 più 54 più 60 e devo ottenere 159, ma posso anche andare a controllare che valgano tutti questi rapporti. Quindi x sta a 15, 45 sta a 15, come 54 sta a 18, come 60 sta a 20. Allora, cosa andiamo a vedere? il rapporto tra 45 e 15 è 3, tra 54 e 18 è 3, tra 60 e 20 è 3. Quindi i rapporti sono tutti uguali. L'esercizio l'abbiamo svolto correttamente. Vi faccio notare inoltre che il rapporto è proprio questo, il numero per cui noi andiamo a moltiplicare 18 dopo aver fatto la semplificazione. Altro esercizio. Le ampiezze degli angoli di un triangolo sono proporzionali ai numeri 2, 7 e 9. Calcola l'ampiezza di ciascun angolo. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. x sta a 2, come y sta a 7, come z sta a 9. Procediamo anche in questa maniera. quindi x più y più z è sta a 2, come x sta a 2. Quindi 180 sta a 18, come x sta a 2. x uguale 180 per 2 diviso 18. Semplifichiamo. x uguale 20 gradi. Per calcolare y modifichiamo solo la coppia della seconda parte, quindi y uguale 180 per 7 diviso 18. stessa semplificazione, y uguale 70 gradi. Per trovare z, 180 gradi meno la somma di 20 e 70, quindi di x e y. 180 meno 90 fa 90 gradi. Quindi il triangolo è rettangolo. anche qui potete ovviamente verificare che la somma faccia 180 gradi e che i rapporti siano uguali. Passiamo adesso ad un esercizio con il quadrilatero. Le ampiezze degli angoli di un quadrilatero sono proporzionali ai numeri 2, 4, 5 e 7. Calcola l'ampiezza di ciascun angolo. La somma degli angoli interni di un quadrilatero è 360 gradi. Allora, andiamo a risolvere questo alla stessa maniera, però stavolta abbiamo 4 incognite. Quindi sommo i 4 antecedenti, i 4 conseguenti e scelgo una coppia. quindi 360 sta a 18 come x sta a 2. Quindi calcoliamo x, 360 per 2 diviso 18. Andiamo a semplificare, diviso 18, questo viene 1, questo viene 20. 20 per 2, 40. Quindi il primo angolo misura 40 gradi. Ripetiamo per y, 360 sta a 18 come y sta a 4. Quindi y uguale 360 per 4 diviso 18. Con la stessa semplificazione viene 40 per 4, ossia 20 per 4, quindi 80 gradi. Per z facciamo 360 sta a 18 come z sta a 5. Alla stessa maniera otteniamo che z è uguale a 20 per 5, cioè 100 gradi. Per trovare l'ultimo, ossia w, 360 meno la somma di x, y e z. Quindi 360 meno 40 più 80 più 100 che fa 220 e il risultato di w è 140. passiamo adesso a una catena di rapporti con le frazioni. Il procedimento è ovviamente lo stesso. quindi x più y più z sta a 1 mezzo più 3 quarti più 2 terzi come x sta a 1 mezzo. Allora sappiamo che la somma è 23 mezzi sta a, facciamo il denominatore comune che è 12, 6 più 9 più 8 come x sta a 1 mezzo. Quindi 23 mezzi sta a 6 più 9 fa 15 più 8, 23, 23 dodicesimi come x sta a 1 mezzo. Quindi x è uguale a 23 mezzi per 1 mezzo per 12 ventitresimi. Questa era una divisione, abbiamo capovolto. Semplifichiamo, 23 e 23 diventano 1 e 1, poi semplifichiamo 2 e 12 e semplifichiamo di nuovo 2 e 6. Quindi x è uguale a 3. Calcoliamo y, 23 mezzi sta a 23 dodicesimi come y sta a 3 quarti. Quindi y è uguale a 23 mezzi per 3 quarti per 12 ventitresimi. 23 e 23 li semplifichiamo, poi semplifichiamo il 2 col 12 e semplifichiamo il 4 con il 6. Quindi y è uguale a 9 mezzi. Dobbiamo calcolare adesso z. Per calcolare z basta fare 23 mezzi, lo facciamo qua su, meno 3 più 9 mezzi. Quindi 23 mezzi meno, 3 più 9 mezzi fa 15 mezzi, perché il denominatore comune è 2, 2 per 3, 6 più 9, 15, 23 meno 15, 8 mezzi, ossia 4. Possiamo controllare di aver fatto correttamente i calcoli andando a sommare 9 mezzi, 3 e 4 e ottenere quindi 23 mezzi e controllare anche che i rapporti siano uguali. Grazie a tutti.